Amici 22, le prime parole di Zenzola dopo la finalissima del Talent. E' Mattia Zenzola il vincitore della 22esima edizione di Amici. Il giovanissimo ballerino ha battuto nell'ultimo scontro la favorita Angelina Mango per un soffio. 51,5% vs 48,5%. L'allievo di Raimondo Todaro ha portato a casa oltre i 7,000 euro offerti da Marlou a tutti e quattro i finalisti, anche 150,000 per la vittoria. Mattia ha ricevuto due ottime proposte di lavoro, come coronamento di un percorso che l'ha visto crescere artisticamente. Roberto Bolle l'ha invitato a partecipare alla manifestazione Ondenza Milano. La compagnia Burn de Flour gli ha offerto un contratto. Poco fa il canale ufficiale del talent show di Maria De Filippi ha pubblicato le prime parole del vincitore.